Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Per consentire lavori di pavimentazione stanotte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Arezzo in entrata in direzione Bologna. Sulla strada provinciale 8 militare per Barberino, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra chilometri 6 e 200 e 6 e 324 nel comune di Calenzano. Sul ponte Vespucci a Firenze sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra. Arriva anche la pista ciclabile. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!